Nel 2013 per la prima volta Apple fece uscire due iPhone, un 5S che fu il vero top di gamma e il 5C che fu di fatto un disastro ma che nel corso del tempo si scoprirà essere l'antenato dei modelli base. Nel 2014 arrivano l'iPhone 6 e 6 Plus, esattamente lo stesso telefono, quindi un cambio rispetto alla mentalità dell'anno prima in due dimensioni diverse e questa cosa qui va avanti fino al 2016 con l'iPhone 7. Nel 2017 si ritorna a differenziare i segmenti con l'iPhone 8 come modello base e la vera novità dell'epoca, l'iPhone X. Il tutto continua l'anno successivo con l'iPhone XR e l'iPhone XS fino ad arrivare ai giorni nostri con l'iPhone 15 e 15 Pro. Che cazzo devo comprare quindi? Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti qui su YouTube e qui nel mio canale, grazie come sempre per le iscrizioni e per i mi piace. Allora, la line-up di Apple, tolto il discorso iPhone 15 Pro, tra parentesi, ogni anno, ogni volta che esce un iPhone nuovo, soprattutto nei modelli più nuovi dove si utilizzano materiali diversi, arrivano le prime magagne. Quest'anno, forse, ce ne sono troppe. Vetro che si distrugge, ora per carità, ci sono i video su internet. Ho dato fuoco al mio iPhone con la fiamma ossidrica e l'iPhone ha preso fuoco, ma va. Ma, allora, premesso che per me i drop test, io mi metterei, tipo, vuoi fare il drop test? Compri l'iPhone per distruggerlo bene, ti tolgo prima di tutto il diritto di voto, perché è assurdo, è uno spreco. Capisco che ci dovrebbe essere una leggina, un righino, drop test pubblicati dalle aziende produttrici, che sarebbero di parte, forse, è vero, però quello avrebbe senso e probabilmente li guarderei. Ma lo youtuber che deve andare al negozio a comprare sei iPhone per distruggerne tre in modi diversi, io credo che il troppo tempo libero nella vita porti troppi problemi. Detto questo, quest'anno l'iPhone 15 Pro, indubbiamente soprattutto con il trattamento al titanio, è delicato. Vedremo se sarà una cosa solo dei primi lotti, dei primi modelli, oppure effettivamente Apple dovrà correre un po' ai ripari. Ve lo ricordate il 2014? Il blend test dell'iPhone 6 Plus, l'anno dopo con il 6S risolsero, cambiando tipo di alluminio, passarono alla serie 7000 e non si piegava più. Quindi insomma il primo brevetto del fold di Apple era l'iPhone 6 Plus, battuta di otto anni fa. Detto questo, la line up ad oggi nel sito Apple, quindi lasciate perdere l'usato, il ricondizionato, ci sono più iPhone che esseri umani, titolo del mio libro, è abbastanza confusionaria, cioè più che altro senza senso. Perché sì, iPhone 15 Pro e Pro Max, iPhone 15 e 15 Plus, e questi possono avere anche senso, tra l'altro sta succedendo quello che io ipotizzavo settimane e mesi fa, cioè tutti i preordini ovviamente sono andati sul Pro e Pro Max e a livello di modelli più costosi, il Pro Max ormai sono anni che vince, stanno recuperando tantissimo i modelli normali, i modelli normali da 6,1 come il mio e anche i Plus. Perché? Perché l'iPhone 15 attira, attizza. Dio mio io ti ringrazio, voglio andare a pregare l'Unione Europea per ringraziarla, ed è la prima volta nella mia vita, perché l'USB-C sull'iPhone, ragazzi, l'ho già utilizzata tre volte, per i miei lavorettini in giro con il telefono, detta così, suona malissimo, ed è una manna dal cielo, una manna dal cielo, l'USB, grazie mille Unione Europea, grazie mille chiunque abbia deciso questo. Però appunto, tranne i modelli top, tranne i modelli nuovi di quest'anno, i line-up sono rimasti come sempre i modelli dell'anno scorso, modelli di due anni fa e modelli di tre anni fa. Partiamo subito con quell'intermedio, è rimasto in line-up l'iPhone 14 e 14 Plus. Premessa? Io vi faccio una premessa che di sicuro non è super popolare, ma ve la dico uguale. Se voi pensate di comprare un iPhone nuovo, nuovo, a prezzo pieno, o quasi prezzo pieno, non è un grande investimento se lo comprate con la porta Lightning. E uno giustamente qui sotto mi può scrivere, ad oggi il 98-99% degli accessori per iPhone è Lightning, quindi comprare oggi un prodotto Lightning ha senso, perché comunque a livello di supporto sarà supportata per altri 5, 6, 7, 8, 9 anni. Avete ragione? Assolutamente ragione. Però deve prevalere, secondo me, il buonsenso. Cioè, se voi cercate un iPhone usato, fate benissimo e ovviamente lo trovate solo Lightning. Se voi comprate un iPhone nuovo, signori, compratelo direttamente con la porta nuova. Io questo è un consiglio spassionato che vi do, perché io me lo immagino già, magari non l'anno prossimo, tra due arriveranno un pochino di esclusive, qualcosa dedicato alla porta USB-C, e ci sarà il classico commento Ma io a ottobre del 2023 ho comprato l'iPhone 14. E che cazzarola, nel senso, ripeto, se voi cercate un iPhone 13 usato, fate benissimo. È perfetto, ci fate tutto. Se lo cercate nuovo, partite perlomeno dal 15 base. Detto questo, il line-up è rimasto l'iPhone 14 e 14 Plus. Ha senso? No. Dal momento che sempre il line-up ufficiale è rimasto anche l'iPhone 13. E voi ve le ricordate così, su due piedi, le differenze tra l'iPhone 13 base e l'iPhone 14 base? Uno. Cioè, da 13 a 14 c'è una cifra in più. Nel senso che non cambiava niente. L'anno scorso il modello base era esattamente lo stesso telefono del modello base dell'anno prima. Il che ha reso e renderà, anche a livello di aggiornamenti futuri, dato addirittura lo stesso processore, molto più longevo e più conveniente sotto ogni punto di vista, l'iPhone 13. L'iPhone 13 parte, mi pare, dal listino da 859 euro, che è da malati mentali. Però in street price si trova a 5,80, si trova a 5,90. A livello di nuovo, street price nuovo. E questo è molto interessante. Per non parlare del ricondizionato, che ad oggi, secondo me, per queste sfumature, per questi medio di gamma, che riguarda appunto iPhone 13 e iPhone 14, il ricondizionato, attorno dai 5,50 ai 600 euro, magari da 256 giga, è secondo me l'offerta più valida. Poi vi ripeto, io personalmente avessi 600 euro da spendere in un telefono, e deciso ad acquistare un iPhone, farei un pianto, un lamento, un enorme bestemmia e comprerei direttamente l'iPhone 15. Perché secondo me, non tanto l'isola dinamica, non tanto le fotocamere, non tanto la batteria, ma veramente la porta, secondo me, sarà la determinante per gli anni futuri. Io non dico questo con cognizione di causa, lo dico a sentimento. Detta sinceramente, succederà un po' come è successo negli iPad. Quando l'iPad nel 2018 ha guadagnato la USB-C, l'iPad Pro, poi nel 2020 l'iPad Air, poi nel 2022 l'iPad base, nel 2021 l'iPad mini, sì, ti è rimasto in commercio l'iPad 9 con il Lightning Ultra Base che trovi in offerta a 2,89. Per carità, fa anche il suo porco lavoro, però capite bene che è comprare un qualcosa veramente di tanti anni fa. Esattamente come oggi, è comprare l'iPhone SE del 2022, che anche quello è rimasto in commercio a 429, 4,49, che non ha minimamente senso, poi per carità, quel modello lì non l'ha mai avuto in tutta la sua vita, ma oggi men che meno, ma neanche a 300 euro. Regalato, ecco, regalato sì, se avete un problema di un tavolo che balla, lo mettete come zeppa. A parte le battute, evitate gli iPhone nuovi con il Lightning. Se state cercando un iPhone medio che vi accompagni magari per qualche mese o anche per un anno, se non siete alla ricerca delle ultime tecnologie, io vi consiglio di cercare nei ricondizionati o negli usati. Attenzione ai coglioni, questo è il titolo del mio libro, perché nei vari siti di compravendita dell'usato non sa mai chi ti capita, e c'è un detto che secondo me andrebbe scolpito dopo, la legge è uguale per tutti e non tutti i coglioni sono nelle mutande. State molto attenti, controllate il numero di serie, controllate lo stato, controllate se la batteria è originale, se è stata aperta o meno, in che condizioni, e vi aggiungo io, un valore umano, controllate la faccia di chi ve lo vende, perché la vita è una tempesta, ma prenderlo nel culo è veramente un lampo. L'iPhone 12 non vi consiglio di acquistarlo, non c'è tantissima differenza nel mondo del ricondizionato tra un iPhone 12 e un iPhone 13. Va benissimo anche il 12, per carità, alla fine dei conti erano quasi lo stesso telefono, però il 13 partiva da 128 giga, e un processore di un anno più avanti, dalla 14 alla 15, magari vi proietta, e dato che l'iPhone 13 e il 14 avevano lo stesso processore, vi proietta magari un po' più in là con gli aggiornamenti. La generazione dell'iPhone 14, che sia base o pro, è quella che in realtà è invecchiata peggio di tutti. Il pro perché con il passaggio all'USB-C anche nel modello 15 base, secondo me lo rende più appetibile in futuro. L'iPhone 14 base era uguale al 13, quindi se comprate il 13 avete la stessa potenza, ma risparmiate quei 100 euro. Qual è l'unica variante dell'iPhone 14 che potrebbe avere un senso? L'iPhone, la famiglia, la generazione del 14, è stata la prima a introdurre il modello Plus, che da nuovo non aveva senso, continua ad oggi appunto con la porta Lightning e un vecchio processore ad avere poco senso uguale, ma in ottica dell'usato, magari guadagnate una batteria più grande rispetto al modello normale, uno schermo più grande. Quindi se riuscite a trovare usato ad un ottimo prezzo un 14 Plus, vi ripeto, ecco, nel Lightning potete valutarlo, ma il 14 normale andate sul 13, il 14 Pro andate sul 15, il 14 Pro Max andate sui 15 comunque, quindi alla fine dei conti è questo. Sperando, a livello di curiosità, non perché sia interessato, che verso febbraio, verso marzo, arrivi un nuovo iPhone SE, dato che è aggiornato ogni due anni, e il modello attuale del 2022, che arrivi una nuova estetica, magari non l'isola dinamica, magari il notch, un misto tra un iPhone 13, 14, XR, vedremo cosa tireranno fuori, e soprattutto a che prezzo. E la domanda finale che io porgo a voi è, ha ancora senso, avrebbe ancora senso produrre un iPhone base, dal momento che la line-up è così variegata, e il mercato del ricondizionato a livello mondiale è così forte? La mia risposta è no. Però devono rispettare i loro schemi, dal momento che continuano a fare un iPad base, credo continueranno a fare anche un iPhone base, sperando che abbia un minimo di senso per un eventuale acquirente. Ditemi la vostra. Ciao!